Ciao Leggini, buongiorno e benvenuti a questa video recensione del seminario, del corso della iniziazione alla frequenza dei 15 chakra di Sonia Versace. Oggi ti voglio parlare di questo video seminario che ho seguito indifferita e che mi è piaciuto molto. Mi è piaciuto molto perché Sonia Versace nella sua versione di insegnante spirituale come Shantideva mi ha davvero conquistata, mi ha conquistata con la sua competenza innanzitutto e con la sua energia che passa attraverso il video e arriva anche indifferita. È stata un'esperienza molto bella che dà appunto l'iniziazione a questi 15 chakra, quindi anche chi lo fa in un secondo momento riceve questa esperienza. Perché? Sonia lo spiega benissimo, lo spiega benissimo perché le iniziazioni di questo tipo, quindi in questo modello orientale sui chakra passano per il maestro o la maestra. Quindi in questo caso lei è la prepista per noi spettatori della conoscenza che ha ricevuto dai suoi maestri. Quindi è come, dato che tutto è uno, passiamo attraverso di lei per accedere alla sua via di conoscenza per poi accedere alla conoscenza dei suoi maestri che sono appunto dei maestri indiani molto famoso, anche famosi. I suoi punti di riferimento sono il Dalai Lama, che è diciamo una, mi permetto di esprimere la mia opinione, delle anime più meravigliose che abbiamo al momento sul pianeta e Sai Baba, che al momento non c'è, però c'era e comunque tornerà. Sono appunto maestri spirituali che hanno grandissima esperienza e che riescono ad accudire i propri discepoli anche a distanza. Una delle cose più belle che ha spiegato Sonia e mi è piaciuta tantissimo, o Shanti in questo caso, è il fatto che appunto non abbiamo necessariamente bisogno di un maestro. È vero, tutti potremmo essere autodidatti in qualcosa, però in realtà avere un maestro di cui ci si fida semplifica le cose. Quindi passare attraverso di lei, attraverso la sua saggezza e la saggezza dei suoi maestri ci permette di giungere a delle conoscenze che se no da soli avremmo faticato tantissimo e che sicuramente sarebbero state molto più lunghe da apprendere, perché chiaramente lei a sua volta ha ricevuto e ci porge quella che è la sintesi di tantissimi anni di studio. Poi si parla di sciacca, quindi millenni, perché 15? Perché 15? Lei riparte dai 7 che sono il sistema più famoso e ne aggiunge degli altri e devo dire che l'aggiunta degli 8 ha gran senso. I 7 principali restano, però in effetti i chakra sotto i piedi, i chakra alle caviglie, gambe, ginocchia, i chakra di passaggio tra il secondo e il terzo chakra, quindi proprio l'ombelico, perché il secondo è un pochino sotto l'ombelico e il plesso solare, il terzo, io parlo di nomi canonici, è il plesso solare in mezzo, ne individua un altro pure fondamentale. E poi sempre salendo altri chakra, li spiega uno per uno, spiega il passaggio, come fluiscono e poi si arriva appunto al momento dell'iniziazione alla frequenza di questi chakra, che è un'esperienza molto 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 bella. Io devo dire che sono felice di aver frequentato questo corso, di averlo rivisto, ho acquistato la registrazione e sono più di 4 ore di corso, mi sono dedicata una giornata, in realtà l'ho fatto in parte anche con voi sulle stories di Instagram, quindi una parte di voi già sapeva che probabilmente sarebbe arrivata questo video recensione. Io quello che vi recensisco, cerco sempre di sperimentarlo in prima persona e di darvi la mia opinione. Resta la mia opinione, quindi poi vi farete la vostra. Però è sicuramente un corso che mi ha catturata, mi ha catturata, mi è piaciuta, mi è piaciuto nelle meditazioni, ho avuto delle esperienze forti. Come sapete, io vivo parte dell'anno in Oriente, quindi ho modo insomma di fare dei paragoni e devo dire che era da tanto che non sentivo l'Oriente così vicino quando non sto in Oriente. E quindi mi è piaciuto, mi è piaciuto molto. Il lavoro con i chakra è molto profondo, Sonia è preparatissima e si vede da determinate cose che dice, per esempio quando parla dell'associazione con gli elementi, oppure dei suoni dei chakra e di come far ripetere i mantra e di come appunto spiega anche l'attivazione ai mantra e i suoni dei mantra che sono il suono dell'elemento del chakra. Insomma sono tutte quelle sfumature che mi era già capitato di sentire appunto solo e soltanto in oriente dove la cultura dei chakra è molto forte, molto profonda. Quindi se avete voglia di approfondire o anche di iniziare, se magari non conoscete i chakra, può essere un modo per iniziare, forse un minimo complesso dal momento che sono 15, però se avete già un minimo di infarinatura dei sette principali andate alla grande. Detto questo, tanto comunque nel corso vengono rifatti tutti, quindi comunque avete possibilità di comprenderli. Se dovete diciamo iniziare da soli, allora potete iniziare con una maestra perché giustamente come ci dice Shantideva, se abbiamo la possibilità di incontrare un maestro, una maestra che ispira la nostra fiducia, allora possiamo servirci della sua conoscenza per evitarci lungaggini, per evitarci errori, per evitarci di magari dover fare quegli errori che sono già stati fatti dai nostri maestri. Questo pensiero devo dire che mi è piaciuto tanto. Poi Sania spiega anche i chakra delle mani che mi sono piaciuti molto, dove sono posizionati, ce n'è uno più nel centro, uno sotto e poi ci sono i sette chakra, in sostanza sono anche sulla mano. Questo mi era piaciuto molto, è una cosa che non sapevo e quindi diciamo come sono posizionati, ora non ve lo svelo perché comunque è una cosa un po' lunga e poi è dentro un discorso più ampio. Però ecco se avete voglia di approfondire questo discorso sui chakra, se avete voglia di regalarvi cinque ore molto molto belle, sappiate che l'energia passa tantissimo, vi può aprire un mondo. Tantissime erano le persone che dicevano, perché sentirete diciamo nella registrazione sia le persone presenti, che le persone che erano al momento in streaming e che quindi dicono i loro pensieri, gli si è aperto un mondo. Io devo dire che il mondo dei chakra lo conoscevo e mi è piaciuto molto fare questo corso, mi ha davvero riequilibrato, riallineato alla frequenza dei chakra, quindi ci tenevo a fare questo video perché magari se siete interessati potete buttarci un occhio anche voi. Se hai fatto questo corso, se lo conosci, fammi sapere che cosa ne pensi e se questo video ti è piaciuto e l'hai trovato interessante, regalaci un like se non sei iscritto al cani youtube delle leggi della magia, fallo subito, tanta tanta tantissima luce, ciao!